Salve amici, oggi parliamo di, soprattutto ci concentriamo sulla stanchezza surrenalica, perché secondo me non viene presa tanto in considerazione, i surreni sono delle ghiandole che sono posti sopra il rene e che hanno un compito estremamente importante, se c'erano degli ormoni molto importanti, tra cui il nostro cortisolo. E quando ad esempio la persona presenta stanchezza, magari ingiustificata, pelle secca, sensibilità al freddo, perdita dei capelli, disturbi del ciclo mestruale, difficoltà di apprendimento, cosa avverrebbe in mente? Allora si tratta di tiroide, si tratta di ipotiroidismo, perché sono gli stessi sindomi, quasi sempre, che io ritrovo nell'ipotiroidismo, no? Però si va a controllare lì il TSH, l'FT3 e l'FT4 e si trova tutto nella norma. Allora vuol dire, o si fa l'eco della tiroide, si fanno tutte le valutazioni, diciamo, giuste per valutare una giusta funzionalità tiroidea e il problema non è lì. Allora la persona è sempre più confusa, dice allora ma che i sindomi sono uguali a quelli dell'ipotiroidismo, però io non ho ipotiroidismo. Allora in questo caso la parolina da indagare e da dire è andiamo a vedere cosa succede a livello dei surreni, andiamo a vedere se c'è quella famosa stanchezza surrenarica, perché ovviamente questa cosa qui succede, perché ovviamente quando i surreni ovviamente si scaricano, non lavorano più a livello come dovrebbero, perché diciamo una valutazione giusta da fare, diciamo, per la valutazione surrenale che è quella della cortisolo e poi ne parleremo, che esiste quello salivare, quello ematico e quello urinario, ma poi c'è anche la CTH, c'è il DEA, ci sono vari altri, gli anticorpi antisurreni per verificare se c'è una patologia autoimmune a livello dei surreni, ma dei metaboliti urinari, ma c'è tutta una serie di indagini che si possono fare, anche testi di soppressione, però questi vengono fatti in ambito specialistico, ovviamente allo specialista di competenza, ma concentriamoci sul cortisolo, perché il cortisolo ha un ritmo circadiano, quindi viene prodotto più al mattino, perché ha lo scopo di svegliarci e viene prodotto meno la sera, ovviamente perché ci deve far addormentare, lì abbiamo una cronobiologia da rispettare, dei ritmi da rispettare, per esempio il cortisolo si abbassa, ma si alza la melatonina, secreta dalla pineale, per farci addormentare, quindi abbiamo tutta una secrezione che deve essere rispettata a livello ormonale dal mattino alla sera, anche perché la sera lavora più il sistema nervoso parasimpatico, che il nostro deceleratore, la mattina appunto funziona più invece l'ortosimpatico, perché ovviamente ci dobbiamo svegliare, ci dobbiamo affrontare la giornata. Ma se cominciamo ad avere queste, abbiamo detto questi sindaco che abbiamo detto, è possibile che il nostro cortisolo sia scarso, carente e quindi ecco perché ci concentriamo in questo video sul cortisolo, perché io di solito consiglio alla persona di fare il cortisolo cosa arrivare, test diciamo non invasivo, che possiamo fare con dei tamponcini anche a casa, ma non nel giorno in cui siamo tranquilli, ma in un giorno lavorativo normale, perché si fanno orari, possiamo farlo tra le 7 e le 8, tra le 11 e le 12, tra le 17 e le 18 e poi tra le 22 e le 23, quindi possiamo fare 4 previevi, ma anche possiamo farne anche qualcuno in più e quindi andare a vedere tutto l'andamento diciamo del cortisolo. Perché invece quello che tutti quanti vedono negli esami del sangue sono a volte il cortisolo delle 8, delle ore 7, delle ore 8, quindi un unico prelievo, ma un solo dosaggio, mi dice poco. Il tempo addietro, quando appunto mi dicevano che i laboratori rimanevano aperti anche, diciamo, pure fino a tardo pomeriggio, si faceva anche il cortisolo su più tempi, su più prelievi a livello ematochimico, allora magari in quel senso era giusto, però io dico quando viene messo l'ago per prelevare del sangue, allora in quel caso proprio l'inserimento del lago mi può dare uno stimolo, no? E quindi mi può far uscire del cortisolo, perché sembra un corpo estraneo che sta entrando nelle mie vene arterie, quindi in questo caso io preferisco più quello salivare, anche se poi esiste anche quello per completezza, anche quello urinario delle 24 ore, no? Comunque, per cercare di fare questa valutazione, qui mi trovo spesso e volentieri cortisolo bassissimo al mattino, ecco perché poi non c'è quella stanchezza soprattutto al mattino, poi man mano magari si può rialzare nel tardo, nella tarda mattinata, quindi ecco la persona che sta un po' meglio, poi si può diciamo, o può addirittura rimanere alto poi anche un po' nella serata, quindi si ha addirittura un'inversione della curva, no? Oppure può essere, come ho visto in una pazienza, tutta una curva appiattita dalla mattina alla sera, quindi proprio una sorta veramente di stanchezza. Allora, come intervenire? Ovviamente bisogna intervenire sullo stile di vita, perché questa situazione me la sono creata, perché magari è venuta da un forte stress in precedenza, però ovviamente non si può ritornare indietro, perché è come se ho tirato troppo la corda, questa corda si è spezzata, ma devo intervenire ovviamente adesso, cercando di recuperare un pochino quel discorso della stanchezza surrenale, facendo dormire meglio la persona, cercando di farla alimentare meglio, cercando di, se è rimasto dello stress, cercando di abbatterlo ancora di più, nel senso gestirlo, perché io ho detto che si deve gestire per non ancora andare ad affaticare i surreni. Poi per quanto riguarda la parte integrativa, io comincio a non cominciare a dare delle informazioni sugli integratori, perché poi ovviamente tutto va contestualizzato con la persona che è davanti, ma non voglio far passare l'idea che mi prendo un integratore e vado a risolvere la problematica. Poi ovviamente posso utilizzarne diversi, però devo avere la persona davanti, devo valutarla al meglio. Però oggi, l'importante è che da questo video abbiamo capito che se ha presenti questi sintomi, cerca di capire che magari hai indagato prima la funzionalità tiroidea ed è tutto ok, orientati sui surreni, perché magari il problema sta proprio lì. Se ti è piaciuto questo video, metti un like, puoi condividerlo e puoi seguirmi sui vari social, su Facebook, Instagram e YouTube. Ciao!